Alcuni ne parlano solo con i preti, alcuni ne parlano solo con gli avvocati, e alcuni si parlano sempre solo da soli, alcuni ancora non si sono parlati, alcuni si lavano tredici volte al giorno, ma non riescono in nessun modo a sentirsi puliti, alcuni profumano solo il proprio inferno, sono tutti qui intorno, sono tutti impuniti, e tutti la 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 Alcuni hanno trovato alla fine il nemico, e non dovevano mica cercare lontano, Ma alcuni si chiedono di che cosa vivranno Alcuni si chiedono come, alcuni lo sanno Alcuni sputano tutte le proprie sentenze Senza nemmeno averle masticate Alcuni sputano tutte le proprie sentenze Perché già non fegato molto, ma molto, ma molto, ma molto ingrossate La, 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 la Grazie a tutti.